ciao a tutti sono michael fuschino insegnante di chitarra classica presso il tempio della voce ho esperienza ventennale didattica e concertistica l'obiettivo primario del corso di chitarra classica è quello di fornire una formazione completa attraverso un percorso mirato finalizzato al tipo di strumento e genere musicale garantendo solide basi teorico pratiche che trattino la conoscenza del manico diteggiature della mano sinistra tocco libero appoggiato rasgheado e tremolo per la mano destra scale accordi arpeggi ed esecuzione da spartito il mio metodo affonda le sue radici nel repertorio classico di autori quali tarrega sor giuliani barrios lobet pia lobos durante il percorso potremo inoltre rivisitare in chiave classica brani di repertorio moderno pop rock jazz bossa nova vi aspetto per il corso di chitarra classica presso il tempio della voce